Ciao a tutti dal Saludatore, eccoci qui insieme all'amico Riccardo Profano. Ciao a tutti, allora lui da oggi è l'aiutatore del web, il nuovo personaggio web, lo battezzo io perché si rimostra umile nel andare nei live e soprattutto dare consigli. A me per primo, ieri mi ha indicato Joel Silver, mega galattico statunitense e grazie a lui e anche altri aiuti, perciò una persona dall'animo nobile, tu da oggi sei, da ieri sera ma ufficialmente tu da oggi sei l'aiutatore del web. Grazie, grazie al Saludatore che si è rivelato in questi giorni che ci siamo dibattuti, un grande amico soprattutto e ci tengo a questa amicizia e sono contentissimo. Ti ringrazio e ringrazio Massimo De Vito che mi ha presentato a te, perciò diamo un merito anche a Massimo, un'altra grande, bella persona e devo dire che grazie a lui oggi sono riuscito a far fare un saluto al Piaglia proprio il grande Massimo De Vito che mi dico, Rasse Pro, che dopo tre giorni di pena che ho sbagliato tutti i tempi, grazie anche soprattutto a lui perché oggi non sarei venuto qui, ho detto io vado, vai, vieni, vieni e io sono venuto, mi stavo per arrendere, io non mi arrendo mai ma mi stavo per arrendere, per il momento è tutto, da Sopra Trinità dei Monti, il Saludatore e l'aiutatore, ciao!